Ragazzi dai volevo fare due risate, questa è la foto mia a Firenze tre o quattro anni fa con il nuovo numero uno del tennis mondiale Carlo Salcaraz, almeno Antonio Abbondanza porta fortuna. Qui era un anonimo prospetto interessante, era il challenger di Firenze di tre o quattro anni fa e lui fu gentilissimo e fece la foto con me, un ragazzo molto alla mano e adesso è diventato vincendo USA Open il più giovane numero uno di sempre, il numero uno al mondo di tennis. Bene, almeno io ho portato fortuna, questa è una foto di tre o quattro anni fa. Mi ha fatto piacere farvi vedere questo piccolo aneddoto, io non amo tanto gli sport in generale, soprattutto il calcio e quelli però il tennis è l'unico sport che mi piace perché la persona si mette al centro, la persona uno contro uno, non in sport di squadra dove conta sempre la mafietta tipo Juve. A me piace di più uno sport personale dove le persone si mettono al centro e danno quello che hanno e il tennis è uno sport che mi piace.